ragazzuoli buongiorno buonasera oggi voglio mostrarvi come cambiare il vostro activision prima cosa da fare è raggiungere questo questo sito di activision che vi lascerò in descrizione arrivati qui dobbiamo mettere i nostri diritti email e password come ci siamo registrati su activision io in questo caso mi sono registrato con button net e faccio l'accesso con button inserisco i miei dati la mia password clicchiamo su connettiti ora mi arriverà un codice perché io ho attivato precedentemente il 2fa un attimo solo benissimo fatto continua ci riporterà in questa schermata non dobbiamo fare altro che cliccare in alto a destra sul profile benissimo ora che siamo entrati su questa schermata qui vediamo i nostri collegamenti degli vari account ma non ci interessa adesso noi dobbiamo andare su informazioni di base benissimo arrivati qui andiamo su id activision vedete il vostro nome il vostro nome activision e andiamo su modifica ci manderanno un codice per fare la verifica che siamo veramente noi infatti ecco adesso già mi è arrivata inserisco subito il codice che mi è arrivata tramite mail il codice per fare la mail andiamo in via inserisco subito ad inserisco la password ed ecco voi che ci aggiornato il nostro nuovo ID Activision. Adesso andiamo a vedere come impostare il nostro profilo Activision in modalità visibile a tutti che ci servirà poi se vogliamo ad esempio partecipare a tornei o cose così. Dobbiamo andare qui su privacy e sicurezza la schermata io vi consiglio sempre di attivare l'UFA perché è importantissimo e dobbiamo scendere su dati di gioco e privacy del profilo io vi consiglio di mettere su accesso visibile amici, game tag rintracciabile tutti, dato di gioco tutti. E detto questo spero che il video vi sia stato utile e come sempre ci becchiamo a un prossimo video.